Musica Nella splendida cornice delle gallerie mercatali di Verona si è svolto il nostro meeting. 1.200 colleghe e colleghe di Cassa Centrale Banca e delle società del gruppo, provenienti da tutta Italia e non solo. Tutti uniti da un sentimento comune, il grande piacere di ritrovarsi finalmente di persona. Prima di tutto, Persone è il titolo dell'evento. Non uno slogan, ma un modo di essere e di operare ogni giorno, promuovendo la collaborazione tra le società e tra le persone che vi lavorano. Nei loro interventi, l'amministratore delegato Sandro Bolognesi e il presidente Giorgio Fracalossi hanno dato centralità a chi ogni giorno si impegna per la crescita e il benessere del gruppo. Il meeting è stato arricchito da un momento speciale, una tavola rotonda. Protagonisti, colleghe e colleghi che hanno raccontato le loro esperienze e rappresentato i valori e i principi che animano il gruppo bancario cooperativo. Inoltre, lo scrittore e speaker motivazionale Sebastiano Zanolli ha partecipato alla mattinata con un momento dedicato ai temi delle relazioni e della fiducia. A chiudere l'evento, un annuncio simbolico e di grande significato. Per ogni collega sarà piantato un albero. Nascerà una foresta, un albero una persona, il bosco del gruppo Cassa Centrale, in una zona particolarmente colpita dalla tempesta vaia, per ribadire l'impegno del gruppo per la sostenibilità ambientale. Prima di tutto, persone, il nostro meeting.